Certamente il primo screening che si fa sui passeggeri in arrivo per usare la misurazione della temperatura è essenziale, però sappiamo benissimo che non è sufficiente perché riesce a catturare, fra virgolette, solo coloro che hanno la febbre nel momento in cui arrivano. Non mi preoccuperai tanto delle persone sintomatiche che possono esserci, potrebbero anche trasmettere, ma hanno una bassa probabilità di trasmissione, quanto le persone che arrivano mentre sono in periodo di incubazione, perché chiaramente queste possono superare il primo filtro. Quindi questo che ci dice? Che già da un punto di vista probabilistico è bene fare un primo screening. Dopodiché però bisogna fare una serie di misure, bisogna mettere in atto in modo tale da... Per esempio? Naturalmente intanto il primo screening permette anche di identificare queste persone, poterle tracciare, seguire nel tempo, rintracciare se necessario, ma soprattutto è importante identificare prontamente coloro che sviluppassero i sintomi una volta arrivati sul nostro territorio. La mortalità, per mortalità si intende il numero di morti sulla popolazione. Sappiamo che la popolazione è estremamente ampia, già nelle zone confinate c'è una popolazione che pari a quella dell'Italia, sostanzialmente oltre 50 milioni di persone. Quindi la mortalità in questo momento parebbe piuttosto basso, perché stiamo parlando di poco più di 100 persone già decedute su un miliardo e mezzo di persone. Del resto ci sfugge anche per malattie più conosciute la mortalità, per esempio per l'influenza. Se noi ci basassimo solo sui casi di influenza che vanno incontro al decesso dopo aver fatto un test, noi sappiamo che sottostimiamo certamente la mortalità, mentre invece ne stimiamo molti di più, per altre cause legate comunque all'influenza. Quindi invece la letalità, per tasso di letalità, noi intendiamo il numero dei morti sul numero dei malati. Qua quindi si irratta di andare a vedere qual è il numero dei recessi, quello ce l'abbiamo perché sono registrati, e il numero di casi, però noi abbiamo il numero di casi ufficialmente segnalati, che sono quelli che sono stati confermati fino ad ora. Noi sappiamo benissimo però che il numero di casi stimati, cioè quelli che non sono stati confermati, è molto più ampio. Quindi quali sono un po' le conseguenze? Se noi dovessimo basarci sui casi confermati, tenderemo a sovrastimare la mortalità. Adesso la diamo al 3%? La diamo al 3%. Se invece... Allarghiamo la base? Allarghiamo la base, chiaramente che succede? Che sappiamo che i casi stimati, la mezza cattiva notizia, sono sicuramente di più di quelli segnalati, però la mezza buona notizia sarebbe quella che la mortalità tenderebbe ad abbassarsi perché i casi non notificati sono soprattutto casi più lievi. Intanto si torna da zone dalle quali sarebbe proibito tornare, per adesso sarebbe proibito anche entrare in questo momento. Quindi è chiaro che purtroppo le persone che tornano da queste zone dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena, dopo le modalità sono da stabilirsi, però logicamente va fatta una sorveglianza clinica stretta di queste persone.